8 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 8 giorni dopo quale avvenimento? Il momento in cui Gesù annuncia proprio ai suoi discepoli l'ora della sua passione e prende la ferma decisione di camminare verso Gerusalemme, nonostante che Gerusalemme sia il luogo in cui Gesù viene crocifisso. Gesù sente il bisogno di salire sul monte, il monte è il luogo alto dell'incontro con Dio, ma non sempre il monte in cui si fa l'esperienza di Dio luminosa e splendente, il caso di Mosè, il caso di Elia è probabilmente un'esperienza positiva, ma c'è anche il monte del Calvario, Gesù pensa anche a quel monte, però per poter vivere quell'esperienza oscura che sarà la sua croce sente bisogno di salire sul monte della luce e di fatti dice il Vangelo salì sul monte a pregare, perché è con la preghiera che Gesù riesce a tenere i legami sacri, i legami costitutivi per vivere le esperienze decisive. Prende anche con sé tre discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo. Anche loro si erano un po' confusi davanti all'annuncio della passione, quindi anche loro hanno bisogno di questa esperienza del monte che è essenzialmente l'esperienza della preghiera. Difatti Luca è molto attento a dire che Gesù vive l'esperienza della trasfigurazione, cioè vede nella luce giusta, in un'altra luce, il suo camminare verso Gerusalemme, viene trasfigurato e dice che questo avviene proprio mentre pregava, potremmo dire in forza della preghiera. E qui scopriamo anche il segreto della preghiera, la preghiera non cambia le situazioni, Gesù andrà a Gerusalemme, morirà e sarà crocifisso. Gesù, cioè la preghiera cambia il nostro modo di stare dentro le situazioni, cambia il cuore dell'uomo. Anche Gesù sente il bisogno di ricollegarsi direttamente con il padre, perché questa è la sua condizione, per vivere in obbedienza al padre, quindi da figlio, le situazioni più difficili, ma sono soprattutto i discepoli che hanno bisogno di questo. Se per Gesù la relazione che il padre è una condizione, per i discepoli diventa un'indicazione necessaria, è per questo che li prende anche con sé, è per questo motivo, perché possono vedere in una luce diversa l'avvenimento che accadrà, che sarà di per sé in sé stesso molto scuro, come ogni avvenimento che si lega alla sofferenza e alla morte. Venne trasfigurato, le sue vesti divennero candide e sfolgoranti. Gesù appare nella sua identità vera, perché la verità della sua passione è che sarà una passione gloriosa, vittoriosa, perché in quella passione vincerà le passioni degli uomini e in quella morte vincerà la nostra morte. Con lui c'erano due personaggi dell'Antico Testamento, Mosè ed Elia, e parlavano del suo esodo, così si capisce bene che la sua morte è un esodo, cioè un passaggio, non è una fine, ma è un attraversamento e sarà il passaggio verso il padre, quindi verso la vita piena, verso la risurrezione. Ma qual è la reazione dei discepoli? La reazione dei discepoli è quella di sentirsi nella confusione, davanti a una cosa così straordinaria quasi si sottraggono alla realtà, di fatti dice oppressi dal sonno, si assopirono, quasi una fuga dalla realtà. Ecco, quando siamo davanti ad avvenimenti così diversi dalle nostre aspettative, noi non siamo subito e immediatamente capaci di collegarci a questa nuova visione della realtà, ci rifugiamo ancora molto spesso in noi stessi e ci sottraiamo a questa novità che è la realtà, che si presenta in modo così alternativo, così altro. Così fanno i discepoli come facciamo noi tante volte, ma appena si svegliono e vedono la gloria di Dio, scoprono nel volto di Gesù qualcosa di luminoso, di bello, vorrebbero trattenere quel momento e allora è un altro modo per fuggire alla novità, perché dice facciamo qui tre tende, facciamo, cadono nella tentazione dell'attivismo, del fare, invece di restare in preghiera, invece di restare dentro questa novità, di camminare dentro questa novità, vogliono fare qualche cosa, ma questo fare consiste nel fissare quel momento, perché vogliono costruire tre tende, cioè le tende sono fatte per camminare nel deserto, per fare l'esodo, invece loro vorrebbero fissarle, creare una situazione di staticità e da questo sono invitati ad uscire. Difatti arriva una nube, la nube è segno della presenza di Dio che ti avvolge, ma che ti spinge, che ti mette in cammino, che ti fa uscire dalla tua situazione di staticità. Difatti Gesù con Mosè ed Elia parlava dell'esodo, della vita nuova si realizza e si sperimenta sempre in un cammino verso l'alterità, verso qualcosa di diverso. Durante questa esperienza della nube che li avvolge, quindi li spinge a partecipare a questa differenza, si sente di fatti la voce, la voce del padre, una delle poche volte che insieme al momento del battesimo il padre esce dal suo silenzio di padre e dice questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Da quel momento i discepoli scenderanno dal monte in silenzio, vuol dire che forse hanno colto qual è l'atteggiamento giusto per stare davanti al mistero nuovo che loro hanno scoperto. Un ascolto che ha bisogno necessariamente del silenzio, quindi rientrano da una parte nell'atteggiamento della preghiera che Gesù gli aveva condotti, ma una preghiera che li conduce alla vita perché la vita stessa sia vissuta in un altro modo, cioè trasfigurato.